Ben trovati qui su Double Travel con me Audrey e oggi vi porto un gioco, in teoria è una demo una demo di un gioco che si chiama Back Dog, anche questo made in Italy completo e la dev del gioco si chiama Alice Misaki. Siamo ancora alla demo però io sono molto curiosa di provarlo e fino a riuscire a trovare il tempo per poterlo registrare e portare qui con voi. Potete trovare gli altri suoi lavori che comunque spulceremo anche quelli appena possibile su each.io come sempre ragazzi come sapete molti lavori su each.io si può fare una donazione libera si può non fare io preferisco sempre donare qualcosa nei limiti delle possibilità di ognuno ovviamente per aiutare i dev per dargli un po' come si dice un aiuto nel continuare quelli che sono i loro progetti. Ci troviamo davanti a un gioco che suppongo sia in stile role play. Siamo davanti alla protagonista, siamo qui con la protagonista Ophelia, è una ragazza che ha degli incubi abbastanza vividi e questi incubi sembrano essere simili alla realtà in cui lei vive. Quindi ci troviamo su un parallelo del sarà vero quello che lei sogna o appunto restano solo dei sogni probabilmente abbastanza inquietanti. Non lo sappiamo dobbiamo andare a vedere ecco. Io direi ragazzi senza ulteriori indugi proviamo a lanciarci nel gioco considerate che comunque anche disegni tutto tutto è fatto da Alice. Quindi chapeau perché sembrano dei disegni molto belli. Una ninna nanna ci accompagna nella scura notte che sta scendendo mentre l'abisso ci sta prendendo. Il gioco in italiano è solo in italiano. Per ora, vabbè. Ophelia? Ophelia svegliati. Amelia? Dove siamo? Ah ok, siamo in due. Non ti ricordi? Stiamo cadute scivolando e tu eri come svenuta. Ma son gemelle? Ora si svegli e possiamo cercare una via per tornare a casa. Ok. Ok, ci si può muovere con le freccette non col WASD Ok, molto particolare. Vabbè, noi che fai? Andiamo verso il ponte Eh no, andiamo verso la statua Sembra la statua di una donna con delle corna Siamo finiti in un posto particolarmente simpatico Let's go È proprio quello che volevo Ok, qui non si può andare Dobbiamo andare al ponte A me già il fatto che se siamo svegliati Praticamente È un simbolo del genere Che sappiamo che è sempre bad news Che c'è qua? Hai trovato un fiore Allora, siamo gemelle Mi sembra di aver capito E vestiamo in questi modi Uno in blu, uno in rosso Oh, guarda, la scultura di una donna con delle ali Fa il paro con quella che le corna Guarda com'è illuminata Sì, ma sembra stia piangendo Poveretta No, non toccarla Eh, evitiamo di toccare cose se non sappiamo, no? Questa è una cosa che io nei giochi horror soprattutto Ma anche nei film horror Sempre a toccare Sempre a toccare Evitiamo di toccare Eh, a posto Eh, è un sentiero nascosto Dove siamo ora? Ma io volevo andare sul ponte prima Raga, pensavo che il ponte Non ho guardato bene Si vede una minchia E non possiamo tornare indietro apparentemente No, addio ponte Ma al solito anch'io devo stare ferma e non toccare sempre Cosa c'è davanti a me? Un fiore, ok Ora chissà cosa servirà Penso siamo arrivate Eh, giusto quello dove ci siamo risvegliate Però più grande Let's go Amelia, conosci queste persone? Ma siamo finiti qua Cioè Le conosci anche tu? Aspetta, lei le conosci No, io non Amelia, aspetta Tanto c'è Ciubecca un rampaggio oggi Sei chilometri di passeggiata e corsa Non l'hanno stanchata Amelia Amelia Cosa è successo a Amelia? Eh, non lo so Sempre sto inizio ad andare Cioè, negli ora non c'è se divide Da qui c'è uscita quell'ombra enorme Black Dog, appunto Era tutto eliminato come se Quella sorella Amelia fosse lì A chiudere il cerchio Ora è tutto spento Vuoto come scarico Devo trovare Amelia Eh, ma Amelia era ammanicata con questi Apparentemente Magari la nostra sorella non la gemella Eh, non lo so Traccia di sangue Tu che fai? Le segui Amelia? Perché sei lì? Io ti stavo cercando Cosa è successo prima? Chi erano quelle persone? Ophelia, aiutami Mi sento Vedi a girare che brutte compagnie Quello Quella, ragazzi Guarda, giro le brutte compagnie Amelia? A lei No, stai lì? Stai lì? Stai lì? Stai lì, sorella? A posto È andata direttamente Amelia? Possiamo interagire con l'altro Se non con il cancello Che cosa sta succedendo? Sta piangendo? Cosa sta succedendo? È bloccato Non riesco No, sta piangendo Non lo capisco Non riesco rimelo a vedere Dove porta talmente buio Non può essere vero Amelia? Adesso sta piangendo Sì, sta piangendo Amelia, dimmi solo che devo Eh, non te lo può dire Che deve fare Sai, già Cioè, già lei ha una situazione Un po' difficile Magari non stiamo all'addosso Dimmi che non è vero Ma solo nella mia testa Cazzo è che aveva letto Che c'era Una visita Amelia Io Non era Sono un brutto incubo Era qui con me Quando mi sono addormentata Dove sarà andata Nella notte? Eh, non lo so Come cazzo Però vestite bene Sono spariti anche Tutti i suoi peluche Ok Muoverti Usare il vece direzionale Tragere i progetti Premio invio Per aprire il menu Esc I progetti verranno usati Automaticamente Grande, grande Questa opzione Grande I salvataggi Non sono automatici Ah Tu così lo dici Eh Ok Ehm Carino il suono Quando salvi Che ti fa capire Che è salvo Non tutti ci pensano Ma io vedo comunque Un riconfiamento Non è Non so sorella Qualcuno deve aver aperto La botola per la soffitta Ed è salito su questa sedia Ma non solo così alta Ad arrivarci da sola Ora Consigliato che Tuttua sorella Più meno Dovesse essere alta E uguale Manco lei In teoria E ho spostato La sedia Aspettate Devo capire Un attimo La stanza I miei genitori Meglio non svegliarli Svegliarli E allarmarli No Veramente Questi sono i casi In cui va svegliato Un genitore C'è l'adulto responsabile In teoria E dire Guarda Abbiamo un problema Bastante importante Mia sorella È scompata L'ho vista Fare un rito Ci sedeva spesso Pire da mamma Sedeva Pire da mamma Avevano Sempre lieti Finali Devo dire Sette dei grim L'hanno lette Non è che c'erano Proprio i finali Siamo riusciti Tutti con quelle favole Belle Carine Per nulla distrittive Per il nostro Sistema nervoso Allora Questa la posso Portare Oh Questa è la giusta posizione Però bisogno di qualcosa Per raggiungere La botola aperta E Signorina Vediamo un po' Che c'è qui in giro Facciamoci un giro Amelia C'è la cucina Ma solo la mamma Ha le chiavi Madonna però Che vita C'è un momento De fame Vuoi bere un po' d'acqua Non è consentito Cioè C'è un po' La vecchia In realtà L'ho dimenticato Accesa Dei libri Dovrei leggerli Forse sì Potrebbe aiutarmi Ma sì Allora Non sono una volpe Di Longer Puoi saltare Come me Di Bum plan Grandi Ma dolci occhi Di Fish Love Potrei prenderne uno Magari A me piacciono le volpe Quindi E' sempre il terzo libro Ragazzi così Non era neanche il terzo libro Ok Non ho capito Questa cosa Cioè Non so il libro Come avrebbe potuto aiutarci A salire in soffitto Però Se puoi spostare Perché No Noi Siamo con una candelina Una becela Candelina a mano Cercare di farci luce Perché Perché è ventenotte Ok Io sono pronto A vedere se posso Spostare cose Ok Perché mi Cioè Dovrei anche ragionare Un attimo io Di cosa potrebbe servire Per poter salire meglio Su una sedia E andare lì Cioè Non mi sembra una cosa Intelligente Mettere uno sgabello Su una sedia Per salire Perché Al 90% Non arriviamo alla meta Ci spaccamo prima Qualcosa Un libro su Fantasmi e spiriti Mamma crede che gli spiriti Restino qui Tra noi Spesso Non per farci compagnia Ci consiglia di non restare Mai nel buio Come noi Stiamo facendo Quindi Sì Vabbè La porta di casa È chiusa a chiave Le chiavi sono Una camera dei miei Non penso proprio Che a mia casa È entrata lì Ok Ok Stavo girando Ma si è spostata Di vostra sedia Ah no Ok Qualcosa Per risolvere La burla E Vabbè In questa stanza In camera nostra Vabbè Però stiamo cercando Cioè Non è questione Di me Una pianta Vabbè Possiamo usare la pianta Come Come pianta Questo C'è un tavolino Ma spostavo pure il divano No Favo un po' di casino Una pianta Favo un po' di casino Fatto bene Così I genitori si allarmano La cucina La mamma Le chiavi Non andiamo a prendere Perché Non so se ho analizzato bene Cioè Mi viene da paura Del fatto che non Abbiamo analizzato bene L'unica cosa Che ci fa interagire È questa cosa E però Non mi porta niente Aspetta c'è un'altra cosa Qui Vedono l'unica Lì No Ah ma sono le luci Dietro di me Ok niente Allora Scusate ma questa cosa Posso utilizzarlo Mi sto Non credo che il fiore C'è Qualcuno cercava qualcosa E ha messo in disordine le carte Il mappamondo Controllo i libri Presidere certo I scrittori lo stesso Ma ci sono diversi titoli Era un verme Fatti avanti Bellezza Puoi vedere le mie ali Contro il primo libro Parla del signore Ingobito che veniva Derisa dalla gente Per il suo villaggio Ma nulla che possa aiutarmi Ok Dall'introduzione Sembra la guida O come difendersi Degli esseri non umani Che probabilmente Nemmeno esistono Che spreco di fogli Ok Ok Alcune pagine Sono state strappate Quello delle ali Spread your wings and fly Sì ma io Solo un libro sembra stato preso E' stato preso di recente Un libro di favole Una notte con il coniglio Di Evening Sui Potrei cercare all'interno Cerca Nulla qua Allora Alice Fai lì scusate Alice No non leggiamo Questi libri Abbiamo già scoperto Non ci facciamo Beata mia Un libro che mia mamma Ci faceva spesso Miglior amica Di Big Sister Potrei controllare Controlla Non ce n'è Non posso Qui ci dice Che i libri Sono impolverati E bisogna fare una pulizia Quando papà Si sveglia Qui ci sono alcune bozze Di segni di mio padre Ho sempre pensato Che sarebbe diventato Un scrittore famoso Per sapere Acquagli tutti i suoi romanzi Preferiti E alcuni scritti da lui Io e me Spesso ci nascondiamo Qui dove i libri Non riempivano ancora Le mensole E aspettavamo Che lui ci venisse a cercare Oh qui c'è qualcosa Una corda E dove è la corda? Abbiamo trovato Il modo per O farci male tantissimo Perché è anche Una delle ipotesi O riuscire effettivamente Con la posizione Con la corda Ecco fa Com'è andata così? A me la spero Tu sia lì I miei genitori Stanno cercando Di sistemare il tetto Quanta polvere che c'è Mi chiamato Anzi asmatica Non ricordavo Tutto così Abbandonato I miei genitori Lo stanno facendo Un buonissimo lavoro Nel sistemare La tenda è strappata E il tetto troppo sporco Per riuscire a vedere bene Che poi qui ci fai Un posticino Veramente carino Se ci metti Dimmi che hai Ci guardato i 30 anni Quando fai questi discorsi Allora Non avevo mai visto Questo libro Prima d'ora Sulla copertina C'è il simbolo Di una farfalla Chissà cosa succede Se inserisco il sigillo Il cane nero È come un'ombra Quando morde La tua famiglia Questa è segnata Mi conta un po' Super nedola Non si capisce Cosa lo porti A toccare una famiglia O una persona Ma qui potrai trovare Tutto quello Che c'è da sapere Sul cane nero Un modo in particolare Esiste per salvare La persona colpito Famiglia Ma è davvero Molto pericoloso Beh certo Perché Rimanere così A mano in mano Aspettare che il cane Ti fa un culo così È meglio No Un cane nero Un'ombra Come quella del mio incubo Fai due più due Per prima cosa serve Manca la pagina dopo Ma porca Ma così no Forse c'è qualcosa dopo Per seconda cosa serve In caso la persona Da salvare Se è una persona A voi importante È bene ricordarvi Due cose La possibilità Di salvarla È una sola Non avete altre opportunità Sarà un lungo viaggio Bisogna fare attenzione Perché nulla Verrà più nascosto È bene Ricordarsi Chi si è E non perdere Se stessi Forse l'ombra Ha preso Amelia È lì Il dubbio E ripiange Ok Devo assolutamente Trovarlo Non piange Cazzo è uscito Da là per dentro Ma che è No no Aspera Aspera Prima di Eh Poi ci porti Nel magico mondo Di fantasia O dal re dei goblin Perché io non avessimo Visto l'habilit Io ci andrei Dai dai Potrei Entrasci Non entrarci Eeeh Entrarci Ah Un po' di luce Dove sono Tutto questo Non può essere Nella nostra soffitta Ci sono cose Lasciate in soffitta Che ti potrebbero lasciare A bocca aperta Ophelia Lascia stare Non andare mai Nella mia soffitta Ah Nessuno deve Entrare Nella soffitta Allora Hai un fiore Voi sono i pelucci Di Amelia Ma voi dormite Questi pelucci Non mi nel letto Cioè entrano loro Uscite voi Ophelia Cosa state Sono tutte belle Voglio vedere Ma non me le fanno Fontana dei desideri Ci sono tante monetine Sul fondo Eh si Si usa Sarebbe bello Avere una moneta E poter Sprire un desiderio In questo momento Ma una moneta Come Ebbè Stava a dormire Giustamente Ne chiederei a dormire La moneta Non si accoccia Ma potremmo forse Trovarla All'interno del gioco E Porta dello sciagallo Chiusa a chiave Ben 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 sia Porta dello sciagallo Porta dello lontra Questa non mi piacerebbe di più Eh Ma sono gli animali Della sorella Per caso Sciagallino Mister lontrina Questo è mister coniglio Parichiotte Guarda che è un Sciagallino E orecchiotte Potrebbero essere Non mi piacere Potrei chiamare I miei peluci In quel modo Ovviamente suppongo Che Ogni Si Ogni porta Vabbè Rappresenti Vabbè Vabbè Mo le controlliamo Però Un peluccio Ok Non abbiamo La moneta Da lanciare L'unica cosa Che possiamo fare È salire Qui su Qualche fiore Aiuterebbe Per il mio mal di testa Per favore Portami sei fiori Ti darò qualcosa in cambio Aspetta Fai Adesso Abbiamo Un item Sì Abbiamo Quattro fiore Va bene Signora Sarà Mia Sarà Mio piacere C'è una Una Si girata La campana Sì Quello Guarda la signora Ehi Cosa guardi La mia Mezza testa Ti sembra divertente No Signora guardi Tu senza rispetto Non hai detto niente Ho solo guardato Però lei È Un po' difensiva Ho solo cercato A mia sorella Ho bisogno di trovarla Non ho visto assolutamente Nessuno Prima che tu mi svegliassi Non è un po' difficile Vedere qualcuno Se si sta dormendo Ma tu veramente Stai a discutere Con questo Senza rispetto A posto Giovani d'oggi Mi spiace Ma l'ansia Per la sparizione Di mia sorella Sa Sonina Ma Non so nemmeno Dove sia andata Bene 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 Non piangere Mi fai un mal di testa Sai Ve lo buco questo pallone Dai Di un po' questa cosa E se mi ha posto Sai quanto mi manca La mia altra metà Vado alla fontana Dei desideri E lì esprimo Il mio desiderio Ha una moneta Io a fretta Il momento Non le ho presi con me Non è che sapevi Che avresti avuto bisogno Di una moneta Tieni Prendi una moneta Le ho lanciate così tante In quella fontana Ma nessuno ha funzionato Quindi sostanzialmente Che cazzo Ma è stata moneta Cioè non è che mi fai ben sperare Ho ricevuto una monetina Con sopra Un Non riesco a capire Se una lontra Un procione Ma è bellissimo Forse hai espresso qualcosa Di irrealizzabile Solo di trovare La metà della mia testa Che non è poi Tanto una richiesta Così tanto assurda Era bellissimo Quando l'avevo in terra Tutte le ombrine Cadevano ai miei piedi Non mi sembra Però la giusta motivazione Grazie della moneta Però ne farò buon uso Che ragazzina Maledudata Questa casa Non è una becca E cosa c'è La porta a una maniglia Non saprei come aprirla Ok Comunque ragazzi Io vi dico La verità È molto bello Graficamente Cioè è veramente Molto molto bello Una cosa Una cosa Che Poi mi permetterò Di rompere le palle Ad Alice E dirglielo È il fatto che Come porse party Il gioco ovviamente Ti rimane In questa A meno che Non sia bionda io Nonostante sia rossa E non Sento offesa per le biondiche Non riesca io Ad allargare Ok Il campo di gioco Io sto giocando Su una cosetta piccola Quindi effettivamente Quello è un po' scomodo Magari Ampliarlo Sarebbe il top Ma giusto per gente Ciecata come a me Devo lanciare È solo il mio riflesso Ci sono molte Molotine sul fondale Forse è stupido Ma non ho altre opzioni Lanciamo l'eclina Ma proviamo Dove stiamo lanciando Parte da sette chilometri La serbellone Mazzante Viene dal mare Tu chi sei Incarno tutti i desideri Di ogni persona Che lancia Nelle mie acque È una moneta magica La moneta era magica È magica Solo se il desiderio È veramente ciò Che si vorrebbe Con il cuore Posso spiegare Il mio desiderio E tu lo avvererai Vabbè fine del gioco Voglio mia sorella Voglio tantissimo Farò del mio meglio Già abbassiamo L'aspettativa Vorrei trovare Mia sorella Amelia È un desiderio impegnativo Purtroppo non posso Realizzarlo nella forma In cui vorresti Ma posso aiutarti A raggiungerla Ovunque lei sia E dice La chiave a forma di lontra Carina Ok Questa chiave ti permetterà Di iniziare Un nuovo viaggio Per trovare Amelia Ma ricorda Essere uguale esteriormente Non vuol dire Esferlo nel cuore Questa frase È molto particolare Perché Noi siamo gemelle In teoria E adesso penso Cioè Sicuramente siamo gemelle Dopo questa frase E Però bello Esteriormente Ma non vuol dire Essere uguali dentro Quindi magari Noi siamo La gemella buona E la gemella cattiva Quella con dentro L'odio Non hai capito Grazie Non ho ben capito Cosa voglio essere La diversa nel cuore Ma quanto sei pura Ma spero di trovarla Sale e salvo Te lo auguro Mia cara Sei sempre attenta A restare sulla via giusta Non lasciarti oscurare Il cuore e la mente Cioè Dobbiamo vedere Se questo gioco Non porta A questo tipo Di situazioni No Cioè tipo Quelle che Tu Puoi fare Nelle scelte Che possono Tipo Tipo Il karma No In Polo 3 Aspetta Cosa Non è difficile Da capire Ophelia Questa mi sembra Fosse Guarda la lontra Sì No Lesta a leggere No Lesta a leggere Ophelia Sì 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 Non Fogliati Ticket A me Pietro Ce l'ho Maldato È troppo Buio Ma cosa È troppo Buio Ok Possiamo Favere L'ansia Però Abbiamo Trattato Siamo A 5 Quello Ne voleva A 6 Questa Sette Sembra Perfetta Quando il Grammofono Funzione Mi va A fare 5 Dove Ci Siamo Mancare Un pezzo Prepariva Ma c'è un tizio Lì Sembra Un manichino Eh Speriamo Quello Sia Il tavolino Con dei fiori Sopra Una pipa Ibrina Con delle favole Per bambaini Una cassa Che si apre Con una combinazione È inutile Tirare a casa Cosa Che tutti Abbiamo fatto Almeno Una volta In qualche gioco Morbida Sto forza Come Mi fa Noi Di sedermici Allora Adesso andiamo Scusi Ci voglio arrivare Da lei Ma Non posso Potrei poter Arrivare Lì Da altissimo Apparentemente Non ci riesco A meno che Non sia sbagliato O qualcosa Scusi 100 100 Dobbiamo andare Dall'altra porta Ah Aspetta Messa Lì C'è qualcosa Leva Per il gramofono Ah Questo Era quello Che ci serviva Per adesso In seguito La leva Ora mi sento Per ascoltare La musica Questa lei Comunque la prende Molto chill Tipo Guarda Ci vuoi Ascoltarmi Un po' Di musica E sta tranquilla Va così Ma sì Dai Se si fossero avverati Tutti i miei sogni Mi desideri Forse non ti avrei Mai persa Ma almeno Quando dormo Posso incontrarti Ancora Ah Perché lei Adesso che fa Sta addormenta La cerca Nel sogno Cosa Sta cercando Nel sogno Ma che carina Annabeth Benvenuti Al primo atto Io sono Annabeth E ora In tre atti Vi narrerò La storia Di fungo bianco Sapete Proveniva Da una Lota Famiglia Di nobili funghi E il suo destino Tutti sapevano Fosse già Disegnato Ma che avemmo Bagnato Noi Stano Tu Puglione Faccio I sogni Strani Ma Qui Ci eleviamo La sua bravura Nelle arti Era degna Dei suoi antenati E lei si sentiva Quasi in dovere Di proseguire Ciò che quelli Prima di lei L'hanno mostrato Allora Grazie Adesso la facciamo breve Ma la demo Sembra essere anche Abbastanza lunga Poi magari Stanno dieci minuti Io non lo so Come sempre Io faccio queste Prediction Che poi si ritrovano Essere disastrose Allora Graficamente Il gioco è carino Cioè mi piace molto I disegni Mi piacciono Sono particolari Allì c'è un tratto Molto particolare Molto bello La storia Boh Ovviamente Ragazzi Non si parte Sempre con qualcosa Un po' di cliché Un po' di già saputo Ok Quello è normale Perché è così Però Sembra Interessante La situazione Delle due gemelle No Non vuol dire Che il cuore È lo stesso Cioè quella frase Ragazzi Voi non credete Ma ha messo una pulce Fortissima E quindi già Mi ha messo il seme Dell'intrigo In testa E già Significa che A me Dal mio punto di vista La cosa si fa interessante Anna Beth Mi piace un botto E Passa due secondi Già me Sono innamorata E Niente Il gioco Sembra carino La demo Non so fin quanto Si spinga Lo continueremo sicuramente Fin quanto La demo Ci permetterà Non so bene Quanto ci voglia Per lo sviluppo Comprato del gioco Ma ragazzi Consideriamo sempre Che quando una persona Deve fare brutta da sola Deve anche tirare giù Una storia interessante Accantivante I disegni La programmazione E tutto È ovvio che bisogna avere Un po' di pazienza Ci sta Ci può stare Quindi ragazzi Io Spero che il gioco Vi sia piaciuto E fatemi sapere Se lo conoscevate già O comunque Conoscevate altri lavori Di Alice Yamisaki Se vi è piaciuto O anche se non vi è piaciuto Mettetelo un like Condividetelo Iscrivetevi al canale Per non perdervi Gli altri video In programmazione Qui sul canale Vi prego E in descrizione Ovviamente Troverete i link Per i vari social Su quali Ci potete trovare Io direi ragazzi Che Ho fatto sempre La solita formuletta Ci possiamo salutare Ci do appuntamento Con Non so Cosa porterò Se prima Warship Rockthulhu O Il prossimo episodio Di Black Dog Non lo so Vediamo un po'